E' un'associazione di imprese che si è formato nel 2009, inizialmente con alcuni soci fondatori con l'intento di compattare il mondo del vino e le aziende rappresentative del mondo del vino per provare a confondare insieme delle strategie per affrontare meglio i mercati internazionali, per presentarsi più compatti, più uniti alla prova del mercato scolto internazionale e affermare un'identità comunale per il vino italiano. Allora, Banalmente è uno strumento che abbiamo messo a punto nell'ultimo anno e si prefigge di misurare la performance di questo panel di aziende che appartengono al taglio del vino inizialmente e poi ci auguriamo che aderisca, non dico tutta l'industria militare nazionale, ma una grossa fetta, che si prefigge di misurare attraverso l'indicatore di sellin l'andamento del business sia sul mercato nazionale che sul mercato estero, segmentando questo dato di vendita di sellin sia per mercati, sia per canali, sia per tipologie di varietà o denominazioni di origine. Quindi è uno strumento estremamente utile soprattutto perché il ritardo con cui viene rilasciato il dato mensile è di 15 giorni rispetto ad esempio all'unico dato che ci viene fornito dal sistema nazionale che è quello ISTAT che arriva con il Genesimo in ritardo. Quindi un lag temporale veramente minimo per conoscere l'andamento, la performance del sistema vino italiano su mercati internazionali e su mercato nazionale. Ma devo dire che i costi sono minimi, parliamo di qualche migliaio di euro su base all'angua per avere un'informativa estremamente potente e affidabile su come sta andando il business di vino sui vari mercati internazionali. Alcuni vantaggi? La possibilità di avere un unico dato che ci racconta gli andamenti delle varie varietà di vino piuttosto che delle varie denominazioni dei vari mercati anziché andare a rastrellare questo dato tra siti e pubblicazioni di settore che spesso risultano essere disomogenei tra di loro. Per cui io credo che un unico dato affidabile e probabilmente l'unica fonte possa essere una soluzione per comprendere meglio e rapidamente l'andamento del sistema vino italiano sia su mercato nazionale che su mercato nazionale.